Ancora un morto sulle strade della Valtaro, un 62enne di Felegara ha perso la vita tra Valmozzola e Solignano. Sullo stesso strato stradale si erano già verificati parecchi incidenti mortali gli ultimi meno di due anni fa. La teologia della liberazione, i suoi principi ispiratori e i suoi percorsi di pensiero, oggetto di un incontro organizzato dall'Associazione Tarbonie presso Sali Imbriani a Borgotaro, con padre Domenico Costella, missionario saveriano in Brasile da 40 anni. Giovani cantanti italiani alla ribalta, nel concerto tenuto a Chiedoli allo scopo di raccogliere fondi per il restauro dell'antico organo a canne Felice Bruna della locale chiesa di San Giovanni Battista. Le società di pallacanestro maschile e femminile di Borgotaro si sono fuse in un'unica struttura organizzativa, raggiungendo un accordo con l'azienda Errea di Parma per la fornitura del materiale sportivo. Ricordato il Memorial Claudio Dallara in programma domani. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. La tragica lista degli incidenti stradali sul tratto di Fondovalle tra Valmozzola e Solignano si allunga nuovamente. Un ulteriore episodio mortale è infatti accaduto ieri pomeriggio. Incidente mortale ieri pomeriggio lungo la Fondovalle Taro, Frasolignano e Valmozzola stazione. A perdere la vita è stato Bruno Santini, 62enne residente a Felegara e originario di Pontremoli. La tragedia è avvenuta alle 17 circa nei pressi della ditta Celi, a poche centinaia di metri dal bivio per case Gardini nel comune di Berceto. Sono entrate in collisione una motocicletta di grossa cilindrata e un camion. Santini precedeva di alcune centinaia di metri in direzione Fornovo due amici con i quali aveva condiviso un'escursione in motocicletta. Giunto all'imbocco di un rettilineo ha iniziato a sorpassare alcune auto. Mentre stava effettuando il sorpasso, un camion ha svoltato a sinistra per rientrare nel piazzale della Celi. L'impatto è stato tremendo. Sbalzato dalla moto una BMW, il 62enne si è schiantato contro il muretto di recinzione. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo Santini non ce l'ha fatta. Il tratto stradale dove è avvenuta la tragedia è tristemente noto per una serie di altri incidenti mortali. Solo due anni fa erano morti un 24enne di Felegara e un 60enne di Parma. Una discussione pluridecennale che attraversa la Chiesa Cattolica è stata oggetto di dibattito presso Sala Imbriani a Borgotaro. La presenza di padre Domenico Costella ha permesso ai numerosi partecipanti di conoscere meglio i principi ispiratori, i percorsi di pensiero e le dinamiche dialettiche della teologia della liberazione. Teologia della liberazione. Un argomento spinoso che è stato oggetto di dibattito all'interno della Chiesa Cattolica Mondiale negli ultimi 45 anni. Iniziata in Sud America con la riunione del Consiglio Episcopale Latinoamericano di Medellin in Colombia nel 1968, la teologia della liberazione tende a porre in evidenza i valori di emancipazione sociale e politica presenti nel messaggio evangelico, trovandosi diverse volte in contrasto con le posizioni delle gerarchie vaticane. In un incontro organizzato presso Sala Imbriani a Borgotaro dall'Associazione Tarbonie, si è cercato di fare il punto della situazione e, con l'aiuto di padre Domenico Costella, missionario saveriano in Brasile da 40 anni, dichiarire i principi ispiratori di questo pensiero teologico. La teologia che non è nata nelle cattedre, nelle accademie, ma è nata dalla vita del popolo. Dato che in quegli anni c'era la dittatura e la povertà dell'America Latina cronica, vedendo questi movimenti di liberazione, i teologi si sono confrontati con questa realtà di oppressione e di povertà, evidentemente usando categorie marxiste. Ma la teologia della liberazione ha avuto il coraggio di confrontarsi con il marxismo, ma è chiaro che l'orizzonte di questa teologia è la fede biblica cristiana. Ma come ogni teologia durante la storia si è confrontata con movimenti culturali, la teologia dell'America Latina ha avuto il coraggio di confrontarsi, perché in un mondo di poveri e di oppressi bisogna passare assolutamente per l'analisi che Marx ha fatto del capitalismo e dell'oppressione alla quale sono soggetti tutti i poveri, oggi del mondo possiamo dire, non solo dell'America Latina. Questo percorso di pensiero ha provocato l'accusa alla teologia della liberazione di voler ridurre la fede ad un'ideologia politica. Anche qui bisogna distinguere, la fede deve evidentemente avere una dimensione politica, perché il regno di Dio deve essere costruito nel regno degli uomini, e quindi passa per la politica, l'economia, la cultura, non si identificano ma il processo storico della liberazione deve involvere tutti questi elementi, se no una liberazione angelicale ma non dell'uomo totale. Dopo diversi decenni di emarginazione, la teologia della liberazione sembra con l'avvento di Papa Francesco vedersi riconosciuto il diritto di cittadinanza all'interno della Chiesa Cattolica. Infatti, pur non avendo nulla in comune con questo pensiero teologico, l'attuale pontefice ha voluto aprire con esso un dialogo, probabilmente perché, essendo argentino, capisce meglio i principi ispiratori di questa teologia che non i suoi predecessori che avevano una formazione prettamente europea. È chiaro che Papa Francesco, dal punto di vista pastorale, certamente segue le grandi intuizioni di questa teologia, che sono poi della Chiesa latinoamericana a partire di Medellin, ma i gesti del Papa Francesco sono gesti evangelici, per cui nessuno può accusare questo Papa di usare una teologia per fini ideologici. Lui vuol lottare contro la povertà e l'ha detto lui stesso, una Chiesa povera per i poveri, che oggi sono la maggioranza nel mondo. Venendo da un'esperienza dell'America Latina, dove per secoli c'è stata oppressione, povertà, eccetera, sente nella pelle questo problema. E quindi vuole portare a quello che è chiamato il primo mondo questa sfida, che oggi è globale, non è solo dell'America Latina, dell'Africa, del subcontinente asiatico, ma la maggioranza del mondo. Quindi o la fede, la Chiesa, si impegna per la liberazione totale di questi popoli, se no la fede diventa significante. La fede deve avere un suo impatto, come la predicazione, la predica di Gesù. Il Vangelo ha avuto un impatto forte quando Gesù è venuto al mondo e non per caso l'hanno poi crocifesso, perché ha questionato tutte le strutture che impedivano all'uomo di liberarsi e di essere uomo libero, o donna libera. Valorizzare le voci italiane e raccogliere fondi per un'opera di conservazione artistica e culturale sono stati gli scopi del concerto di musica sacra, cameristica e sinfonica tenutosi presso la chiesa di San Giovanni Battista a Tiedoli. Ha avuto un duplice aspetto il concerto di musica sacra, cameristica e sinfonica svoltosi a Tiedoli allo scopo di raccogliere fondi per completare il restauro dell'antico organo a canne Felice Bruna della locale chiesa di San Giovanni Battista. Al pari di una manifestazione con la medesima finalità benefica organizzata nella chiesa di Ostia Parmense la primavera scorsa, l'esibizione dei cinque cantanti, accompagnati al pianoforte dal musicista borgotarese Paolo Bracchi, era infatti inserita in un progetto perseguito dalla maestra Laura Bullian, direttrice artistica dell'iniziativa, tesa alla valorizzazione delle giovani voci italiane emergenti. Da un po' di tempo penso a cercare di organizzare degli spettacoli intanto che mettano in risalto e rivalutino le grandi voci italiane. Bisogna dare spazio ai nostri italiani, ricuperarli perché stanno languendo e stanno soffrendo di media rispetto alle aspettative che ha comunque il popolo italiano che ha sempre un grande amore per l'opera. Allora in questo senso abbiamo preso anche il discorso del recupero di questo straordinario organo di tiedoli che già l'anno scorso abbiamo trattato come bene preziosissimo da recuperare assolutamente, che ha costi enormi e quindi anche questo concerto ha anche la funzionalità di raccogliere fondi per continuare il lavoro di restauro che è stato iniziato ma che ovviamente ha ancora bisogno di numerose possibilità di recupero finanziario perché la spesa è veramente in mano in quanto è stato dato il lavoro a uno dei più grandi esperti bresciani di recupero di questi organi antichi. Un lavoro molto delicato, molto complesso e che ha bisogno anche di lunghi tempi per essere realizzato. Quindi io ho approfittato di questa situazione anche sotto l'impulso del nostro Don Lelio per raccogliere qui due o tre personaggi veramente straordinari. Primo soprano dell'opera filarmonica di Mosca il vice presidente del teatro Carlo Felice di Genova che oltre a essere un eminente uomo di cultura è anche un bravissimo cantante e già un famosissimo attore e poi una giovane che ho scelto qui a Parma veramente straordinaria che merita di essere valorizzata sempre in quel discorso di recupero dei talenti emiliani per recuperare un po' anche il bel canto che è uno dei nostri pregi. Completano il cast un tenore di cui che conoscete già che è Andrea Cesare Biffi che è migliorato moltissimo ancora e il baritono Paolo Ferrando che ci offre sempre con grande gioia il suo contributo vocale. Il suo contributo a cura di Grazie a tutti. Il 7 settembre presso la Biblioteca Manara di Borgotaro e il lunedì 9 settembre presso Creativamente a Sugremaro di Compiano avranno luogo due lezioni dimostrative gratuite del corso di inglese ABC English and Me creato da Kinder Music International, un corso per bambini dai 2 ai 6 anni con un mix di musica, canzoni, filastroche, giochi motori che aiuta il bambino a imparare l'inglese divertendosi e giocando in un clima piacevole e interattivo. Lunedì 9 settembre il punto di vendita mobile della TEP sarà presente in Piazza Farnese a Borgotaro dalle ore 8.30 alle ore 13 al fine di agevolare il rinnovo degli abbonamenti agli studenti per l'anno scolastico 2013-2014. Ritorna a Borgotaro la festa degli amor. Domenica prossima 8 settembre dalle ore 16 in Piazza Verdi davanti al Cinema Farnese degustazione di amor realizzati dalle pasticcerie Fratelli Stecli e Murena e Costella. Sudore, impegno e costanza è quanto serve per tagliare il traguardo nel ciclismo così come nella sfida per garantire il diritto di non soffrire e di essere curati. Domani, sabato 7 settembre a Calestano, Borgo del Parmense ai piedi dell'Appennino, una pedalata tra medici, farmacisti, glorie del ciclismo e appassionati delle due ruote, dà il via alle iniziative in vista di 100 città contro il dolore, la giornata internazionale organizzata dalla Fondazione ISAL con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica per informare i cittadini sulle terapie disponibili contro il dolore e sui centri specialistici presenti sul territorio, diffondere il diritto alla cura sancito dalla legge 38 del 2010 e raccogliere fondi per la ricerca scientifica. La carovana di ciclisti affronterà un percorso di 85 chilometri lungo i classici tornanti di Piantonia, teatro della prima edizione della Mille Miglia. La partenza alle ore 8.30 per poi passare da Respiccio, Fornovo, Berceto e il Passo della Cisa, con sosta per il rifornimento in località Casola e ritorno a Calestano dopo circa 4 ore e mezza. Festa di fine estate, domenica prossima 8 settembre a Ghiare di Berceto. Dalle ore 16 si festeggerà in piazza alla fine dell'estate con torta fritta, salsicce, panini e intrattenimento musicale. Alle 17 a Marcordil Si, sfilata di abiti da sposa tradizionali per rivivere un magico ricordo. Sempre domani, sabato 7 settembre, in occasione della Fiera del Fungo Porcino di Albaretto, sarà organizzata un'escursione attraverso il cuore della zona IGP, luoghi amati da tutti gli escursionisti per un lungo percorso ad anello di 27 chilometri che da Albaretto porterà al Passo dei Due Santi, con la possibilità di assaporare anche le tradizioni culinarie locali presso il rifugio Il Cinghiale Bianco. L'escursione è indicata a partire dai 14 anni con spirito sportivo e a ventigia pratica di escursionismo. Pranzo al sacco o possibilità di pranzare al rifugio a prezzo concordato per i partecipanti di 15 euro. L'escursione è solo finalizzata alla conoscenza dei luoghi di produzione del funghi GP e non alla raccolta. Ritrova alle ore 8.20 dei parcheggi di fronte al comune di Albaretto, alle 8.30 partenza con mezzi propri per raggiungere il luogo di inizio dell'escursione, alle 9 inizio dell'escursione vera e propria con una quota di partecipazione di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero di cellulare 339 75 50 371.